Musica Benvenuti alla diciottesima edizione del telegiornale di Argenta Musica Siamo andati a Consandolo per conoscere meglio che cos'è un consiglio di partecipazione e quali sono i suoi compiti all'interno della comunità locale Il consiglio di partecipazione è un gruppo di persone che rappresentano la cittadinanza, in questo caso di Consandolo per le problematiche che esistono nella frazione da proporre al comune di Argenta Musica Il 13 febbraio alle 10 presso l'aula Magni del convento dei Cappuccini la scrittrice Leonora Guerrini ha incontrato i bambini dell'elementare di Argenta presentando il suo nuovo libro dal titolo La Befana e il principe dei minatori Musica Dal 24 gennaio al 15 febbraio presso il centro mercato è stata allestita la mostra fotografica Numeri in fotografia di Paolo Squersanti Ho iniziato a fotografare e mi piace fotografare perché per me è uno sfogo, è un hobby, è una passione che mi accompagna sempre difficilmente io non ho la macchina fotografica con me e cerco di portarmi a casa un piccolo particolare che ho trovato magari in un posto, in un luogo Musica Sabato 7 febbraio alle 10 presso la sala Giardino di Argenta il liceo scientifico di Argenta ha incontrato il reduce del campo di sterminio di Buchenwald il signor Franco Schenheit che ha raccontato la sua esperienza di deportato rispondendo a domande poste dagli studenti stessi Parlo da una scuola di Argenta dove sono stato invitato per un ricordo del mio passato di reduce dal campo di concentramento di Buchenwald dove sono stato imprigionato assieme a mio padre mentre contemporaneamente mia madre era stata imprigionata e spedita nel campo femminile di Ravensbruck dico questo perché noi tre, famiglia di tre persone, io il papà e la mamma siamo l'unica famiglia in Europa partita per dei campi tedeschi e ritornati tutti e tre non ce ne sono altre Domenico 8 febbraio ad Anita di Argenta si è svolta una giornata di bird watching invernale con laboratorio didattico sul bird gardening dedicato ai bambini di Anita assistiti dai volontari dell'associazione Ardeola Venerdì 27 febbraio alle 21 presso la sala Giardino di Argenta la sezione CAI di Argenta ha ospitato per una serata l'alpinista estremo Marco Confortola che ha raccontato della sua vita e della drammatica esperienza vissuta da lui e dai suoi compagni di scalata sul K2 è stata un'avventura molto particolare, innanzitutto ho raggiunto la cima perché questo è stato un po' messo non è stato ben chiarito, comunque ho raggiunto la cima il primo di agosto alle 6 e mezza è stata un'avventura comunque difficile perché purtroppo 11 persone sono morte però di questo comunque ho scritto un libro con una casa editrice che è Baldini Castoldi Dalai uscirà il 7 di aprile in tutte le librerie per cui quest'anno è un'ottima notizia insomma perché comunque lì verrà fatto un po' di chiarezza su quello che è successo sul K2 Giovedì 5 febbraio alle ore 21 presso il Teatro dei Fluttuanti di Argenta è andata in scena lo spettacolo comico A Qualcuno piace carta presentato dal mimo trasformista Ennio Marchetto riscuotendo un buon successo di pubblico Siamo tornati al Teatro dei Fluttuanti dove questa volta è andata in scena lo spettacolo di prosa Caro Bugiardo portato in scena da Anna Mastamauro e Corrado Tedeschi Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.